per ogni avversario a cui sbaglia Zanitelli l'arresto e tiro e quindi può ribattire la stella cercare i primi punti della sua serata dopo quelli di Ice Force arrivano a Congallo che segna il suo bescio e fallo e potrà pareggiare dalla lunetta a Fraciaschel blocca proprio di Evango e popola nel mezzo angolo che torna ancora per un attimo la Fraciaschel ha capito tutto però la difesa della stella che scappa dall'altra parte a segnare dei punti del primo vantaggio sbaglia però il tiro su Acciari che difende come vuosi rilancia poi il contrafiede per il gran canestro controllando il corpo averne un'idea zona ancora in difesa invece per Varese sempre scattacca poi scarica su Gallo che ha spazio per il tiro sul rientro avversario bruciato dalla bomba di Gabriele Gallo un paio di tiri aperti richiutati dal ferro per Varese in questo inizio di ripresa dall'altra parte Acciari ribalta per Gallo che pensa al tiro prende il tiro segna il tiro da tre punti e il ribasso è Freda di Acciari che poi possiamo riaprire banque approvato anche l'azione personale Gallo dall'altra parte Varese ancora sono arrivati tutti o quasi dal campo i suoi punti e poi unite unite 33 ripeto 33 rispaldi per far da Gallo perché la partita è finita è finita è finita è finita Grazie a tutti.